San Pier Damiani, cardinale e dottore della Chiesa, un riformatore. Ci si presenta oggi Pier Damiani, l'austero riformatore dei costumi cristiani nell'undicesimo secolo e precursore di San Gregorio VII. A lui risale in parte la gloria di quella magnifica rigenerazione che si formò nei giorni che cominciò il giudizio per la casa di Dio. Levatesi a combattere i vizi attraverso la severa istituzione monastica, Pietro si oppose come una diga al torrente dei disordini del suo tempo e contribuì potentemente a preparare, estirpando i vizi, due secoli di fede ardente che ripararono la ondà del decimo secolo. La Chiesa ha riconosciuto tale cianza, selo e grandezza d'animo negli scritti del santo cardinale che, con un giudizio solenne, lo hanno avverato fra i suoi dottori. Apostolo della penitenza, Pier Damiani ci chiama alla conversione in questi giorni. Ascoltiamolo e mostriamoci docili alla sua voce. Vita San Pietro nacque a Ravena nel 1007. Dopo aver studiato ed insegnato a Ravena e a Parma, entrò nel 1035 nel remitaglio di Fonte Avelana. Fatto priore verso il 1043, promosse numerose fondazioni, che egli stesso diresse e dove feci osservare la regola di San Benedetto. Lutò molto contro la simonia, il libertinaggio del clero e l'ingerenza del potere civile nel dominio religioso. Nel 1057, Stefano X lo nominò cardinale, vescovo di Ostia. Lo vediamo al concilio di Asburgo nel 1063 fare deporre l'antipappa Onorio II, poi a Cluny, dove difese le immunità monastiche contro il vescovo di Macol. Nel 1065, poteneva di ritornare nel ritiro di Fonte Avelana per ritrovarvi la contemplazione e l'autorità d'un tempo, ma dovete ancora uccirne per andare a difendere la chiezza. Morì il 22 febbraio di 1072. Leone VIII ne stesse il culto dell'ordine monastico a tutta la chiezza e gli diede il titolo di dottore. Selo per la chiezza Lo selo della casa del Signore consumava la tua anima, oh Pietro. Infatti, fosti dato alla chiesza in un tempo in cui la malizia degli uomini lo aveva tolto parte della sua bellezza. Ripieno dello spirito d'Elia, ti sforzasti di ridestare i servi del padre di famiglia, che nel loro sonno avevano lasciato prevalere la sezzania nel campo. Sorsero così giorni migliori per la sposa di Cristo. La virtù delle divine promesse di cui è depositarla si rivelò. E tu, amico dello sposo, avesti la gloria di aver potentemente contribuito a ridare alla casa di Dio il suo antico splendore. I principi della terra avevano detto, occupiamo come nostra eredità il santuario di Dio, ma tu lo preservasti dalle ingerenze secolari. La chiesza, che deve essere soprattutto libera, era diventata una vile serva agli ordini dei padroni del mondo. In tale crisi, i vizi ai quali la debolezza umana, e così facilmente incline, avevano insossato il tempo. Ma il Signore si ricordò di colei cui tutto si donò, e per rialzarla da tante rovine, ti servì di braccia mortali. E tu fosti tra i primi di essere eccelto, o Pietro, ad aiutare Cristo, nell'estirpazione di si gravi mali. Natesa del giorno, in cui Gregorio VII doveva prendere le chiavi nelle sue mani, forti e fedeli, i tuoi esempi e le tue fatiche li prepararono la strada. Ora che sei giunto al termine dei tuoi travali, velia sulla chiesza di Dio, con quello cielo che il Signore ha coronato in te. Dall'alto del cielo comunica ai pastori quella apostolica forza senza la quale il male non retrocede. Mantieni puri i costumi sacerdotali, che sono il sale della terra. Mantieni saldi nelle percorelle, il rispetto, la fedeltà e l'avvienza verso coloro che le guidano nei pascoli della salute. Tu, che immesso a un secolo corrotto, fosti non solo apostolo, ma l'esempio vivente della penitenza cristiana, fa che siamo solleciti a riparare con opere soddisfartene i nostri peccati e le pene che ci hanno meritato. Raviva nelle anime nostre il ricordo delle sofferenze del Redentore, affinché troviamo nella sua dolorosa passione una continua sorgente di pentimento e di speranza, accrecci anche la nostra fiducia in Maria, rifugio dei peccatori, e rindici partecipe della filiale tenerezza da cui ti mostrasti animato per lei e del cielo col quale predicasti le sue grandezze. Grazie. 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 Grazie.